Salve a tutti da Casa Cerea, la gestione mobiliare di Cerea. Siamo oggi a Sanguinetto in una zona molto interessante nel centro storico di Sanguinetto a proporre una villa particolare, una villa Liberty, anni 30, ideale per chi è amante di qualcosa di unico e irripetibile. Abbiamo un'abitazione quindi di 250 metri su due piani in un lotto di 1600 metri, un lotto che è attualmente ancora edificabile, essendo con due accessi carrai può essere anche frazionato ed essere trasformato in più abitazioni. Oltre al giardino frontale abbiamo una parte sul retro dove abbiamo una dependance di 80 metri quadri con tre garage, anche quella trasformabile in ulteriori appartamenti o un'altra abitazione. È un'abitazione molto particolare, venite a vedere, il prezzo lo vedete in sovrappressione, è interessante per tutto quello che viene offerto sul lotto stesso. Vi ricordo come sempre di scaricare l'applicazione Casa Cerea nel vostro tablet e smartphone per essere sempre aggiornati su tutte le nostre novità. Grazie, arrivederci.